Il mio tradizionale cordiale bentrovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia, parliamo di politica e lo facciamo con un gradito ospite che è Antonio De Luca, capo gruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea regionale siciliana, che ringraziamo per essere qui con noi. Buonasera. Grazie a voi, buonasera. Quindi parliamo di politica e in questa occasione parliamo naturalmente di Assemblea regionale siciliana e cominciamo dal guardare innanzitutto le prime cose che sono successe in questo governo, anzi questo magari lo affrontiamo subito dopo, ma quello che attualmente è in discussione è un tema importante, per la Sicilia e per i siciliani, ovvero quello della finanziaria regionale, del bilancio della regione, dalla quale anche se è un tema che sembra molto tecnico, in realtà dipende molto della vita dei siciliani, dell'economia della Sicilia. Un bilancio che ancora non c'è, non è stato approvato, è stato presentato in aula, attualmente è in discussione. Come sta andando De Luca? È stato un bilancio, una finanziaria che hanno avuto innanzitutto un esegesi molto particolare perché seguono, quella è stata la sostanziale bocciatura della Corte dei Conti relativamente agli atti finanziari precedenti della regione siciliana, soprattutto nella parte in cui questa, siamo nell'epoca del governo musumeci, prevedeva la ripartizione dei debiti della regione siciliana in un periodo più lungo di dieci anni, in luogo di quelli che sono i canonici tre anni che la legge nazionale prevede, che fondamentalmente qual è il ragionamento? Se tu prendi i debiti e gli avanzi e gli spalmi su dieci anni, quindi su una durata temporale che va anche oltre la tua stessa legislatura, vengono violati due principi che hanno anche un fondamento costituzionale. Uno, quello della responsabilità di chi partorisce un determinato documento finanziario o di chi è appartorito dei debiti e in secondo luogo quello dello spalmamento dei debiti su generazioni future anziché su quelle che hanno creato quei debiti. Lo diciamo in parole povere per chi ci segue e magari non è avverso a queste cose, insomma non puoi lasciare i tuoi debiti a chi viene dopo di te. Tecnicamente sarebbe così, anche se poi con una norma nazionale hanno cercato di porre rimedio con un artificio perché poi la sostanza comunque è negativa, cioè che chi verrà domani pagherà i debiti creati da chi c'è oggi. Anche se, dobbiamo dirlo, molta parte di questi debiti derivano comunque da azioni passate, non sempre dai governi che poi si sono fatti carico di affrontare questi temi, a prescindere che ci sono i governi di destra, sinistra e di centra. Certamente è un problema infatti che ha attraversato i vari governi, che è esploso nell'epoca del governo Crocetta quando furono eliminati tutti gli accertamenti dei titoli attivi dal bilancio, dalle cattive contrattazioni dei vari governi siciliani con lo Stato centrale, in quanto tante volte i governi regionali, e di questo è stato anche accusato lo stesso Schifani, hanno accettato delle piccole mance in cambio della cancellazione dei numerosi crediti che la Sicilia vanterebbe per accise e per determinati accordi di natura statutaria, dallo Stato centrale e questo ha cagionato un danno irreparabile per la Sicilia. Bene, questa è la situazione da cui si parte, ma è arrivata in Commissione Bilancio comunque una proposta di finanziaria e di bilancio rispetto alla quale voi avete presentato una valanga, un po' meno del passato, anche perché è un documento un po' più tecnico, un po' meno mastodontico di quelli delle legislature passate, ma avete comunque presentato numerosi emendamenti modificativi. Certamente, a livello proporzionale il numero di emendamenti ovviamente dipende dal numero di articoli con cui il governo decide di varare con delibera di giunta la finanziaria, in questo caso solo il Movimento 5 Stelle ha presentato 200 emendamenti a una finanziaria che oggettivamente non ha una grande visione di quale dovrebbe essere il futuro della Sicilia, che non affronta neppure di relato quelle che sono le tematiche più, i dossier più importanti della regione. Ovviamente con gli emendamenti, con le modifiche si cerca di porre qualche pezzo, di migliorare un po' il testo, questo è avvenuto anche col contributo di altre fazioni politiche, ovviamente poi i miracoli non se ne possono fare, per cui il testo rimane quello esitato dall'aggiunta, corretto, migliorato, con qualcosa di aggiunto, però fondamentalmente un testo senza visione, senza programmazione soprattutto. Rispetto al passato è sembrato però di vedere un governo che ha maggiore capacità o maggiore voglia, più che capacità, di dialogo anche con le opposizioni, c'è stata un'apertura, l'avete percepita questa cosa oppure è soltanto dichiarazione di intenti? Nella realtà i dialoghi tra forze di opposizione e forze di governo ci sono e ci sono sempre stati, poi si deve vedere quando questi accordi sono tesi a contemperare le reciproche esigenze o quando invece sono ragionamenti a rialzo per cercare comunque di portare avanti un ragionamento politicamente più sostanzioso. In questo caso devo essere sincero, il dialogo c'è stato, non probabilmente nelle forme sui temi che le opposizioni o quanto non il Movimento 5 Stelle avrebbe voluto, però devo dare anche atto che il governo si è insediato da poco per cui pretendere di parlare di riforme vera e propria nei primi due mesi sarebbe anche scorretto da parte mia. Per cui questa è una finanziaria, è un atto politico importante, non soddisfa le esigenze dei siciliani, non gli riconosco una visione, una capacità di rilancio dell'isola, però ripeto, se ci sarà una reale volontà di dialogo da parte del governo nei confronti delle opposizioni sulle riforme, probabilmente lo vedremo nei mesi immediatamente successivi all'approvazione della finanziaria. E questo ci apre a un altro argomento, questa Assemblea regionale siciliana che si è insediata da qualche mese e sta cominciando in pratica a lavorare adesso ha una forma, diciamo così, diversa da quella del passato. Intanto perché sappiamo tutti che durante la campagna elettorale 5 Stelle si sono divisi da quell'alleanza col PD che aveva caratterizzato l'ultima fase del precedente governo e altre scelte, ma fondamentalmente anche perché c'è un terzo partito di opposizione che è quello di Caterino De Luca, di Sicilia Vera, De Luca è soltanto un omonimo, lo diciamo, anche se è abbastanza chiaro, c'è un caso di omonimia, fondamentalmente c'è anche questa terza forza che rappresenta comunque, ha una consistenza in Assemblea regionale siciliana. Questa frammentazione delle opposizioni rischia di portare ad andare in direzioni diverse, almeno questa è la sensazione che si è avuta all'inizio? Beh, questo lo vedremo anche questo nel corso della votazione della finanziaria probabilmente, che ripeto è l'atto politico per eccellenza. Un'opposizione che voda favorevolmente a una legge finanziaria è un'opposizione che si pone sulle tematiche principali proposte dal governo con questo atto finanziario, che dovrebbe essere poi quello attraverso il quale il governo vuole attuare il suo documento programmatorio, si pone ovviamente in un atteggiamento di accondiscendenza, tradendo così anche però in parte quello che è il mandato dell'elettorato che, relegandoti all'opposizione, ti dice controlla quello che fa la maggioranza e non aderire a quello che è il suo progetto politico. Ovviamente questo non vuol dire dire no a qualsiasi cosa il governo proponga, però un voto favorevole equivale fondamentalmente a un'adesione. Ma di fatto c'è dialogo fra queste tre forze che rappresentano l'opposizione? Sì, 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 assolutamente. Ad oggi c'è dialogo, il dialogo c'è sempre, il dialogo c'è anche, ripeto, con le forze di maggioranza, guai a chi fa politica senza dialogare con le altre forze politiche che comunque si sono rappresentate in assemblea regionale e perché hanno ricevuto un mandato popolare. Quindi questo guai a non discutere. Non sempre si è d'accordo sulla linea politica da tenere, però questo fa parte anche delle differenze, perché se non ci fossero queste differenze sarebbe stata un'unica compagine politica che si sarebbe presentata alle scorse elezioni, per cui ci sta a non essere d'accordo sempre su tutto. Alla prima votazione, quella che ha portato all'elezione del Presidente dell'Assemblea regionale, però si sono viste delle differenze di impostazione anche abbastanza consistenti, soprattutto perché ci sono stati dei voti che sono andati in direzione opposta rispetto a quelle che erano le indicazioni di almeno due dei partiti dell'opposizione, o no? Quello poi diventa anche un fatto di coerenza, perché lo vedremo tra qualche giorno, se Caterno De Luca si prenderà i ruoli che prima ha rifiutato all'interno dell'ufficio di Presidenza, è evidente che è tornato sui suoi passi e quindi poi probabilmente la fa lui da questo punto di vista la figura dell'incoerente, politicamente parlando ovviamente. Quindi questa è la impostazione che avete voi come 5 Stelle, ma guardando a futuro... 5 Stelle, quello che dice, fa, e fa quello che dice. Nessuno dei vostri ha votato per questo Presidente dell'Assemblea? Punto di domanda. No, no, ma il tema non è votare o non votare il Presidente dell'Assemblea, perché vedi anche il sostegno a quello che comunque è indicato come Presidente dell'Assemblea, che è un ruolo istituzionale e di tutela di tutte le forze rappresentate in Parlamento, non è ciò che può dividere, che poi è l'opposizione, se il Presidente dell'Assemblea lo fa a Galvagno piuttosto che a Senza, piuttosto che un altro deputato comunque di maggioranza, cambia poco, non è quello il tema che appassiona, perché poi tutti i gruppi parlamentari, soprattutto quelli principali, quelli più numerosi, devono essere rappresentati nell'ufficio di Presidenza, che è un luogo istituzionale e non politico, ricordiamolo. Quindi il tema non è quello, il tema è se tu utilizzi le votazioni per un tuo tornaconto politico, oppure semplicemente per fare dei post su Facebook che non migliorano le condizioni di vita dei siciliani. Se tu invece le cose, i tuoi ruoli, li devi non solo rivendicare e assumere e prenderti la responsabilità che il popolo ti ha dato, però lo fai con trasparenza, con serietà e con equilibrio, io su questo non vedo problemi. Se tutto diventa un piccolo mercato delle vacche per fare un passo avanti oggi e un indietro domani o viceversa, quella per me non è contrattazione politica, non è concertazione, ma è semplicemente cercare di accaparrare qualcosina in più per se stessi e per il proprio gruppo. A prescindere dalla legge finanziaria di cui stiamo parlando, ma in generale, guardando dalla lente dell'opposizione, come giudicate questi primi mesi del governo Schifani? Caratterizzati sicuramente da un immobilismo, nel senso che non abbiamo capito ancora Schifani cosa vuole fare, nel senso che è venuto in Parlamento, ha parlato tanto dicendo poco e questo è sotto gli occhi di tutti, però ancora non si è capito, noi finora il governo l'abbiamo visto in azione semplicemente per scambiare gli assessorati tra di loro, per tutti gli atti di contrattazione col governo nazionale, ma non per delle condizioni migliori della Sicilia, tant'è che siamo partiti per ottenere tanto, siamo tornati ottenendo poco e cedendo molto, parlo dell'accordo finanziario ovviamente, e per lo più per farsi imporre degli assessori da Fratelli d'Italia, ma nulla di più. Ad oggi, 5 Stelle, guardando alla situazione attuale e alle cose che sono state fatte e a devono essere fatte, quali sono le priorità che voi come partito indichereste, qualora vi fosse richiesto, a un governo della regione collaborativa? Innanzitutto, sederci e discutere sulla riforma dei rifiuti. La Sicilia ha bisogno di un piano rifiuti, ha bisogno di capire come vuole gestire i suoi rifiuti nei prossimi anni e noi su questo siamo disponibili a dialogare, il nostro unico punto fermo è che il piano rifiuti non deve crescere intorno all'ipotesi di realizzazione di inceneritori o di termovalorizzatori che poi fondamentalmente si basano sullo stesso principio di combustione e quindi di inquinamento, ma deve invece questo piano rifiuti essere costruito su una logica di non produzione del rifiuto, quindi di minimizzazione di produzione di rifiuti sul riciclo, sul riuso, sulla raccolta differenziata in modo da impattare il meno possibile e sull'ambiente e sulla salute dei siciliani e anche sulle loro tasche. Quindi primo tema rifiuti, poi? Secondo me è un'emergenza che deve smettere di essere tale, perché se la Sicilia è un'emergenza da rifiuti da oltre 20 anni, non è un'emergenza, è un problema voluto e su cui c'è chi ci guadagna probabilmente. Il secondo tema è fondamentale, è anche la digitalizzazione della pubblica amministrazione e lo svecchiamento della stessa. La Sicilia con Roma deve battere i pugni e questo Schifani non l'ha fatto, perché c'è bisogno di ripartire con le assunzioni. La pubblica amministrazione ha bisogno di giovani, i giovani hanno bisogno di lavorare nella pubblica amministrazione di fornire il loro apporto con la loro conoscenza del meccanismo digitale in quanto diversamente la Sicilia rimarrà sempre indietro rispetto ad altre regioni. Qui si collega poi la tematica ovviamente del lavoro, perché se tanti soldi la Sicilia perde è perché mancano le strutture negli uffici dei comuni della regione e delle partecipate che sono in grado di progettare e di dialogare con i sistemi informatici attuali. Noi abbiamo bisogno di svecchiare quindi la pubblica amministrazione perché attraverso questo si può creare tanto lavoro, perché non perdiamo più i finanziamenti e quindi si collegano alle tematiche di sostegno al reddito. Intanto uno dei problemi che subito bisognerà affrontare è quello della dirigenza. Si aspetta che il governo della regione nomini nuovi dirigenti generali, ma potrebbe essere non fattibile alla luce di una sentenza che in buon sostanza dice che non si possono nominare ai dirigenti di terza fascia, la regione non ne ha più di diversi. Infatti questo qua è un problema che fondamentalmente si pesca sempre nello stesso laghetto e quindi poi alla fine sono generali che si spostano di quadrato, però poi alla fine restano sempre gli stessi e questo sicuramente non consente neppure un ricambio di idee o un ricambio generazionale. Ma questo è un problema che però si potrà affrontare nel medio termine perché assumere e formare i dirigenti ci vorrà del tempo, nel frattempo che si fa? Non c'è una soluzione a tutto. Anche l'arruolamento di dirigenti esterni ha dei limiti e pone dei limiti. Per cui questo è un problema che chi arriva oggi non ha materialmente la possibilità di risolvere un colpo di baschetta magica, però è anche vero che chi governa oggi c'era anche ieri e avanti ieri. Intanto che questo è un governo in prosecuzione del precedente e in secondo luogo perché la maggior parte dei soggetti che lo formano sono in politica da 20 e 30 anni. Quindi allo stato dell'arte abbiamo individuato quindi priorità, rifiuti sicuramente. E non ci dimentichiamo anche un altro argomento che è molto importante che va discusso, che è la sanità, ossia una riforma della sanità perché è evidente che la sanità pubblica oggi non riesce a dare le risposte, lo vediamo con le liste d'attesa, di cui i cittadini hanno bisogno. E la risposta non può essere univocamente quella che offre Schifani, dice apriamo i privati. Perché se l'apertura ai privati può essere e deve essere per carità in determinati contesti una parte della risposta, non può essere l'unica risposta. Al che quindi si deve anche iniziare a ragionare se le ASP devono continuare a gestire gli ospedali o se per caso invece non sarebbe meglio che le ASP gestiscono soltanto le guardie mediche, la medicina territoriale, ciò che nascerà se e quando i fondi del PNRR saranno spesi e quindi nasceranno le case di comunità, gli ospedali di comunità e così via. Oppure se debbano continuare a gestire anche tanti ospedali. Perché è evidente che l'ASP non ha in sé né le capacità né le risorse umane per fare questo lavoro. Allo Stato dell'Arte si lavorerà alla finanziaria nel mese di febbraio fino a un certo punto del mese di febbraio, poi si dovrebbe passare a quelle che voi indicate le esigenze come le riforme, però c'è un rischio. Nella prossima primavera ci saranno altre amministrative importanti perché vanno a rinnovo comuni come Catania, Siracusa, Trapani e così via dicendo. C'è il rischio che come sta succedendo ad esempio con qualche ritardo per la festa di Sant'Agata abbiamo letto nei lavori dell'Ars, questo andare verso un'altra campagna elettorale blocchino ulteriormente i lavori che servono invece alla Sicilia. Questo eventualmente sarà una responsabilità di cui si dovrà fare carico il governo Schifani e la maggioranza di centrodestra che guida per l'appunto l'ufficio di presidenza. La regione non può fermarsi ogni volta che ci sono le amministrative, anche perché le amministrative in Sicilia ci sono una volta all'anno. Ragion per cui non è che ogni anno ci si può fermare perché ci sono le amministrative anche se ci sono comuni importanti. Questa è una cosa che non dovrebbe succedere, se succederà saremo pronti a denunciarla. Anche voi comunque come 5 Stelle avete degli impegni che saranno legati al rinnovo delle elezioni amministrative? Senza dubbio, ma non sono pagato per fare elezioni amministrative, sono pagato per stare in assemblea regionale a fare il mio dovere, per stare in commissione a fare il mio dovere. Nel tempo che avanza faccio le elezioni amministrative che le possono seguire tranquillamente le altre persone che sono sul territorio. Uno dei grandi temi che si è affrontato, che forse è stato anche un'arma di distrazione di massa, si è parlato tanto di questa vicenda, la scelta di una mostra milionaria a Cannes da parte della regione siciliana. Dal vostro punto di vista, chi ha sbagliato e come e perché? Ma qua secondo me è uno di quei casi in cui hanno sbagliato tutti e non si salva nessuno. Hanno sbagliato Musumeci e Maglio Messina nella scorsa legislatura, che è il momento in cui tutto questo teatrino o questo cinema parte e hanno continuato a sbagliare Schifani e Scarpinato a proseguire questo affare fin quando non è stato portato alla ribarta dai giornalisti. Ora qual è il tema? È sbagliato che una regione finanzi con risorse proprie un'attività di promozione della propria regione? Ovviamente no, in termini assoluti no. Ci sono due condizioni che devono essere assolte. Il primo è il rispetto delle norme in materia. E questo a mio giudizio non è avvenuto perché i servizi offerti dalla società concessionaria potevano essere tranquillamente e serenamente svolti anche da altre società. Ovviamente non lo stesso identico ma similari. Come quando usi i prodotti in edilizia. Ci sono più marche ma hanno le stesse caratteristiche. Allora vedi quella che ti costa di meno e utilizzi quella. La seconda è capire il ritorno che la Sicilia ne ha. Perché se io investo 3,7 milioni mi aspetto che ne derivi una pubblicità e degli effetti tali che quei 3,7 milioni mi torni indietro con gli interessi in misura di visitatori, di turisti e di quant'altro. Se io non sono in grado di misurare questo ritorno quell'investimento già secondo me non va fatto. Perché prendi quei 3,7 milioni e li utilizzi per creare economia in Sicilia. E li spendi in Sicilia. Nel caso specifico però quei soldi non potevano essere utilizzati in maniera diversa. Questo non è detto. Perché potevano essere utilizzati in maniera diversa qualora tu anziché rivolgerti a quella determinata società per fare quel determinato tipo di manifestazione. Potevi fare una promozione di natura diversa. Sì, rivolto in altri termini ad altri operatori commerciali. Puoi fare anche un bando di idee, vedere quali proposte vengono dall'esterno e in quel caso andare a creare anche un vortice di idee e poi scegli quella che ritieni più opportuna e migliore. Però per questo ci sarebbe avuto del tempo. Se si programma il tempo c'è. Se arrivi all'ultimo giorno disponibile ovviamente poi il tempo non c'è. L'altro grande tema, velocemente perché il tempo va a nostra disposizione, sta finendo a proposito di tempo è quello dell'uso in generale, poi di quelli che sono i fondi comunitari di cui facevano parte questi 3.750.000 euro che alla fine non sono stati spesi. In generale c'è il tema dei fondi comunitari che spesso non vengono utilizzati e quando vengono utilizzati non sempre in maniera appropriata. Certo, tante volte i fondi europei sono stati utilizzati per mettere delle toppe a debuche a cui non si è riuscito, non si è voluto porre il rimedio. E spesso da questo punto di vista farne le spese sono stati i comuni e quindi i cittadini perché hanno avuto poi difficoltà a rendicontare queste spese e quindi poi alla fine hanno gravato enormemente sui bilanci comunali. Altre volte invece per un deficit di progettazione e di programmazione queste risorse sono proprio tornate indietro e non sono state utilizzate dalla Sicilia. E questo certamente è uno di quegli elementi che contribuisce in maniera sostanziale a aumentare il divario tra le strutture del nord e le strutture del sud Italia. Una semplice battuta perché siamo in chiusura. Se l'erenista è chiesto di dare un consiglio al governo per fare una cosa subito che sia assolutamente positiva, quale sarebbe? Sicuramente in questo momento io ritengo prioritario bisogna soffermarsi sulla domanda sanitaria e sull'offerta sanitaria. Bisogna abbattere le liste d'attesa. Non è possibile che un cittadino di una donna che ha bisogno di un esame alla mammella debba aspettare se è messo e debba rivolgersi a un privato. Non è accettabile che dopo il Covid tutti gli esami che sono stati rinviati a causa di tutte le lungaggine che si sono create debbano continuare a non ricevere risposte. C'è bisogno di prevenzione e di dare risposte immediate alle richieste sanitarie dei cittadini. Grazie Antonio De Luca, capogruppo dei 5 Stelle all'Arse per essere stato con noi in questi 24 minuti. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. Vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo Talk Sicilia. Grazie, buonasera. Grazie a tutti.